Futsal di Sernia, regina di Coppa Italia, la squadra di Nicola De Lisio batte nella finalissima del palaunimo il Bonifro al termine di una sfida comandata quasi totalmente. Parte forte di Sernia che con D'Alberto al terzo costringe la deviazione Madonna. Al dodicesimo si fa vedere il Bonifro con lo scambio Ruggero per Rotta, tiro di quest'ultimo fuori. Al diciottesimo Serlenga recupera palla in pressione e impegna l'estremo difensore del Bonifro, superlativo nella risposta. Al minuto 24 la formazione rosso-blu sblocca il match. Ottima l'uscita dal pressing con Lalli che vede il suo tiro deviato. Sulla sfera si avventa Ruggero che beffa Petrocelli. Passano 60 secondi e la Futsal di Sernia impatta. Madonna si oppone da campione alla conclusione di Delli Carpini ma non può nulla sul taping vincente di D'Alberto. Al ventisettesimo Delli Carpini va via in slalom. Madonna evita la capitolazione. La Futsal fa salire i giri del motore e prima del riposo va a bersaglio per altre due volte. Prima Delli Carpini su punizione al trentesimo porta i suoi in vantaggio. 60 secondi più tardi Mancini recupera palla e fa secco ancora Madonna. Con il montaggio di Alberto Pietrunti passiamo la ripresa. Bastano sette giri di lancette a Serlinga per finalizzare una grande ripartenza e portare a quattro le reti della Futsal di Sernia. È un monologo bianco-celeste. Al nono Mancini manda a voto Primiano e scarica sotto al set il pallone del 5 a 1. Il Bonifro si fa vedere al minuto 11 con un tiro di Licursi respinto da Petrocelli che al diciassettesimo segna dalla sua porta approfittando del gioco a 5 del Bonifro. Nel finale di match si registrano la settima marcatura della Futsal di Sernia con il solito D'Alberto e la seconda marcatura del Bonifro con l'Ali. La Futsal di Sernia alza al cielo la Coppa Italia per il Bonifro e la seconda finale amara consecutiva.